che vita dura la vita del manager si si sveglia presto la mattina si va a letto tardi la notte e quindi per una giusta colazione ci vuole i pavesini perché i pavesini riempano e tirano su danno energia, danno perché io i pavesini me li mangio dalla mattina ma poi me li mangio anche la sera eh, lo so, è una dura vita quella del manager ma purtroppo qualcuno la deve fare come sono buoni questi pavesini, gli fanno crescere bene la panza, bene la panza, pavesini e sarete un manager perfetto eh, ci sta eh, ciao